Salve amici di Abruzzo Doc, buongiorno da Silvi Marina, spiaggia, dove sono stato lo scorso anno, fino a maggio, qui vicino alle dune, dove vediamo gli ultimi bagnanti, credo che sarà per l'ultimo weekend qui di ottobre, perché dopo di che, a quanto pare, le previsioni per la prossima fine settimana, da giovedì, venerdì, sabato, la temperatura si abbasserà, quindi potremmo deporre definitivamente gli abiti ancora estivi, io sono ancora qua in capice a mezzemaliche, insomma, sono qui per portare un po' spasso il mio cagnolino, mia moglie, anche se preferirei essere tra oliveti, la raccolta, intanto una raccolta delle olive, o in qualche frantoio, ma spero di poterlo programmare per domani, e sono qui al lavoro anche oggi, solitamente siamo libri di riposo la domenica, ma questa sera abbiamo un piccolo banchetto, quindi mi toccherà lavorare, poi domani ci sarà la giornata di ponte, quindi saremo anche aperti, sempre lì a piazzaforte dove mi trovo attualmente, a Pescara, in zona Corso Mantonè, e quindi poi farò riposo domenica, adesso vediamo se tra domani e dopo domani posso fare un giro verso l'entroterra abruzzese, che io tanto adoro, lì in lontananza, un po' se possiamo zoomare, un po' c'è Silvi Alta, gli ultimi passeggiatori domenicali si apprestano un po' ancora a godersi questa bella giornata, se vediamo qui i complessi alberghieri di Silvi, e quindi niente, io ringrazio chi ha avuto piacere di vedermi questa breve diretta di saluto domenicale, tutti gli amici di Abruzzo Doc, da Nicola Salvatore, da Abruzzo con Amore, vi saluto e vi da appuntamento alla prossima live, speriamo tra domani e dopodomani, tra Olivetti e Frantoi, grazie a tutti e buona giornata.